Luca, vieni, avvicinati. Ho trovato un grosso cumulo di sterco. Sicuramente l'orso che l'ha fatto deve essere enorme. È un formicaio. Oggi, per girare la seconda puntata di Discovery New Animals, ho avuto la grande fortuna di imbattermi in questo bellissimo formicaio. Guardatelo, è bello zeppo di formiche. Qui la natura si è voluta al massimo. Un'opera bellissima. La catena alimentare, per bilanciarsi, ha creato nell'evoluzione darwiniana una mosca delle dimensioni di un uomo. La mosca dal pizzetto. Anche questa? Sì, è una cosa che in questi tempi va di moda. Seguitemi, la devo trovare. Eccolo. È tutto il giorno che le corro dietro. Ma è difficile. Volo a destra. Volo a sinistra. Non riesco a prenderla. Eccolo. È dietro di me. Adesso provo con questa pistola a tirarne un colpo. È protetta. Cavolo. Anche stavolta è un animale protetto. Non posso spararti. Lo ripongo nella fondina. Vado a catturarle. Aspettate. Vola quanto vuoi. Io mi arrendo. Questa seconda puntata la cancelliamo. Non ce la faccio, Luca. Siamo in onda. Eccoci. Una nuova avventura. Ci attende. La sto inseguendo. Le do del vantaggio. Ma la prendo. Adesso l'ho vista appostata su un albero. Eccola. L'ho vista. Adesso provo ad avvicinarmi e a prenderla. È qua dietro. Adesso la catturo. Non a scampo. È qui sola. Con la pistola la sparo perché non la sopporto più. Mi sa che non lo puoi sparare. Luca, se non la posso sparare, anche oggi finisce un'altra puntata di Discovery New Animals. Alla prossima.